Ciao ragazzi, in questa lezione andremo a correggere alcuni esercizi sulle percentuali. In particolare vedremo la rappresentazione grafica e un problema che ha a che fare con lo sconto commerciale. Allora, iniziamo dal primo esercizio. Allora, il primo esercizio ci dà questo grafico, questo areogramma, in cui sono rappresentate le distribuzioni dello sport in un certo gruppo di persone, quindi in un centro sportivo ad esempio. Quindi sappiamo che il 35% delle persone fa nuoto, mentre le altre percentuali che non conosciamo si riferiscono agli altri sport. Possiamo vedere la corrispondenza grazie ai colori che sono scritti nella leggenda. La prima domanda ci chiede cosa possiamo dedurre da questo grafico, quindi cosa rappresenta questo grafico? L'abbiamo già detto, rappresenta le percentuali graficamente, quindi nell'areogramma, le percentuali della frequenza degli sport, quindi quante persone fanno tennis, quante nuoto e così via, le percentuali, le rappresenta graficamente. Poi ci chiede anche qual è lo sport più praticato. Lo sport più praticato è il nuoto. Lo vediamo perché graficamente lo spicchio più grande è proprio quello del nuoto. Vi ricordo che geometricamente questi spicchi si chiamano settori circolari. Poi ci chiede la percentuale degli altri sport, quindi dobbiamo andare a fare dei calcoli per vedere qual è la percentuale dei partecipanti ai singoli sport. Conosciamo solo quella del nuoto, però vediamo che ci sono due spicchi uguali, quello giallo e quello verde. Infatti una delle domande dell'esercizio è ci sono spicchi uguali? Sì, quindi giallo e verde hanno la stessa percentuale, quindi bocce e ping pong stessa percentuale. E poi il tennis vediamo che corrisponde a un quarto di circonferenza. E noi sappiamo che un quarto corrisponde al 25%, quindi il tennis è il 25%. A questo punto noi sappiamo che bocce più ping pong corrispondono a una percentuale che è uguale al 100% meno la somma delle due che conosciamo, quindi meno 25 più 35, perché ovviamente tutto l'aerogramma rappresenta il 100%. Vado sempre a togliere ciò che conosco, quindi vado a fare 25 più 35 che fa 60, quindi 100 meno 60 che fa 40. Quindi giallo più verde fa 40%, ma sono uguali, quindi questo è il 20% e questo pure, quindi basta fare 40% diviso 2, quindi 20% e 20%. Andiamo poi a fare la prova, 20 più 20 più 35 più 25 e il totale deve tornarci 100%. Vi dico rapidamente anche un altro modo per risalire a questo 25%. Se non vi ricordate che un quarto corrisponde al 25%, potete fare un quarto è 90 gradi dell'angolo giro, quindi un quarto dell'angolo giro corrisponde ad un angolo retto e quindi tramite la proporzione potete risalire al 25%. Quindi andate a fare la proporzione x sta a 100 come 90 sta a 360. Quindi x uguale 100 per 90 diviso 360. Semplificando otteniamo 1 e 4, 100 diviso 4 fa 25, quindi il tasso percentuale è 25. Passiamo adesso al prossimo esercizio. L'esercizio è simile all'ultima parte dell'esercizio precedente, quello in cui vi ho fatto vedere come calcolare l'ampiezza dell'angolo, però questa volta l'incognita è la percentuale. Quindi conosciamo le ampiezze degli angoli al centro, che vanno poi a individuare i settori circolari, e dobbiamo calcolarci il valore della percentuale. Allora, la proporzione da impostare è sempre questa, quindi il tasso percentuale sta al 100% come l'ampiezza dell'angolo alfa sta al totale, quindi l'angolo giro. Allora, alfa ovviamente è espresso in gradi. Allora, se il mio angolo è 18 gradi, la x è il tasso percentuale, quindi x sta a 100 come 18 sta a 360, da cui otteniamo x uguale, linea di frazione all'altezza dell'uguale, 100 per 18 fratto 360. Fare una semplificazione in modo furbo in questo esercizio vuol dire semplificare 360 e 100 dividendo per 10, 1 diventano 10 e 36, dopodiché vado a semplificare 18 e 36, in questo modo ottengo subito 10 diviso 2 che fa 5, e quindi la percentuale che corrisponde a 18 gradi è 5%. Il procedimento è lo stesso anche per gli altri due, quindi andiamo a farlo. Andiamo ad impostare la stessa proporzione, quindi x sta a 100 come 126 sta a 360, quindi x uguale 100 per 126 gradi diviso 360 gradi. Vi faccio notare che x verrà in percentuale perché gradi e gradi alla fine si semplificano. E quindi andiamo a fare i calcoli, semplificando anche questa volta, andiamo a semplificare 360 e 126, dividiamo per 2, otteniamo 63 e 180. Possiamo ancora dividere 180 e 63 diviso 9, quindi otteniamo 7 e 20. A questo punto andiamo a semplificare invece 20 e 100, 1 e 5. 5 per 7, 35. E quindi 35 per 100. È la percentuale che corrisponde a 126 gradi. Adesso per andare a calcolare quella che corrisponde a 216 gradi o rifacciamo lo stesso procedimento, quindi con la stessa proporzione, la impostiamo mettendo al posto di alfa 216, oppure basta fare 100 meno 35 più 5, che fa 60. Quindi questo corrisponde a 60%. Infatti vedete che è più di metà. L'altro modo, vi dicevo, andare a impostare x sta a 100 come 216 sta a 360. Quindi x uguale linea di frazione 100 per 216 diviso 360. E ovviamente otteniamo lo stesso risultato. Quindi scegliete voi se usare uno o l'altro. Ovviamente il primo è un pochino più corto. Stesso esercizio. Abbiamo invece un altro... Cioè abbiamo una differenza, cioè uno spicchio in cui non c'è l'ampiezza. Allora, andiamo a vedere velocemente come si fa. Allora, 180 gradi corrispondono a metà angolo giro, quindi 180 gradi corrisponde a una percentuale che è la metà del totale, quindi 50%. 108 gradi, come faccio a calcolarlo? Come prima, x sta a 100 come 108 sta a 360. Quindi vado a fare x uguale a 100 per 108 diviso 360. Quindi provate a fare i conti. Il totale deve venirvi 30. Quindi questo è il 30%. Per conoscere la percentuale dello spicchio rosa senza conoscere l'ampiezza dell'angolo, avete due modi. Uno è quello di andare a fare per questa 100 meno la somma delle altre due percentuali che conosciamo, e quindi mi viene il 20, quindi 20%. Un altro modo che però è più lungo è andare a fare, ve lo dico perché è sempre bene sapere tutti i modi. Un altro modo è andare a fare 360 gradi meno 180 più 108, sempre gradi. In questo modo andate a trovare l'ampiezza dell'angolo che corrisponde allo spicchio, quindi 72 gradi che corrisponde allo spicchio rosa, e poi andate a impostare la proporzione x sta a 100 come 72 sta a 360. Ovviamente questo qui è più lungo, però è sempre utile conoscere più metodi per fare lo stesso esercizio. Ovviamente stessa cosa per questo, per trovare la percentuale di 36 gradi che corrisponde a 36 gradi, quindi la percentuale rappresentata da un angolo al centro ampio 36 gradi, dovete fare x sta a 100 come 36 sta a 360. Anche qui, se notate subito qualche particolarità, come nel caso di 180 gradi che è la metà, o altri angoli che abbiamo incontrato prima, non c'è bisogno di fare tutto il conto, ma scrivete semplicemente 36 è un decimo di 360, quindi dovete giustificare il perché mi scrivete la risposta, quindi la percentuale è un decimo di 100, e quindi 10. Quindi questo è 10%. Altrimenti, se non vi viene in mente subito questa osservazione, potete fare questo. Per 252 impostate sempre la proporzione, quindi x sta a 100 come 252 sta a 360, andate a fare 100 per 252 diviso 360, e quindi x è uguale a 70, e quindi la percentuale rappresentata è il 70%. Per conoscere lo spicchio verde, i due modi ve li ho già detti prima, quindi andiamo a fare quello più corto, 100 meno 70 più 10, e quindi 20. Quindi questo spicchio rappresenta graficamente il 20%. Passiamo adesso a un problema sullo sconto commerciale. Abbiamo una cambiale di 17.500 euro, quindi un debito da pagare, che scade tra due anni. E viene pagata oggi, quindi due anni prima della scadenza, con un tasso di sconto del 4,5%. Qual è l'importo da pagare? Allora, noi sappiamo che possiamo andare a calcolare lo sconto commerciale in questo modo. Sconto uguale capitale per R per T fratto 100, in cui R rappresenta il tasso di sconto, quindi 4,5% nel nostro caso, e T il tempo. Quindi abbiamo 17.500 per 4,5% per due anni, tutto questo diviso 100. Ovviamente andiamo subito a semplificare questo con questo, e quindi viene 175 per 4,5 per 2. Quindi 1575 euro. E questo è lo sconto che si riceve per aver pagato il debito due anni prima della scadenza, perché se scade tra due anni e lo paghiamo oggi, vuol dire che abbiamo pagato due anni prima della scadenza. Vi ricordo, per fare queste operazioni con la virgola, potete anche sostituire 4,5 con 45 decimi, e poi andare a semplificare. Quindi noi dovevamo pagare inizialmente 17.500, ma lo sconto è 1.575, quindi l'importo da pagare, quindi chiamiamolo totale da pagare, è il capitale meno lo sconto, quindi 17.500 meno 1.575, che fa 15.925 euro. Quindi il nostro debito non è più 17.500 euro, ma è diminuito perché abbiamo pagato in anticipo. Quindi questo è proprio lo sconto commerciale, ossia lo sconto che si riceve per pagare, per aver pagato in anticipo un debito, per aver restituito in anticipo un debito.